Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Velocemente la probabile formazione della Juventus contro l'Ione sarà assolutamente per me questa. Cesni, Porta, Quadrado, De Ligt, Bonucci, Alessandro, Matuidi, Bentancur, Ramsey, Bernardeschi, Ronaldo e Dybala che per me recupererà e giocherà al posto di Guain che lo mettiamo qua perché sarà sicuramente un cambio di questa partita ma secondo me sarà questa la formazione della Juventus come credo che sarà molto probabilmente questa la formazione del Lione. Sarà una partita molto difficile ve lo dico subito e sarà una partita a tratti anche brutta perché la Juve dovrà cercare anche di non prendere gol perché un gol del Lione potrebbe veramente significare l'eliminazione e quindi bisognerà cercare in tutti i modi anche di non prendere gol non solo di farli. Questa la Juve, quello il Lione, ragazzi ripeto ancora la formazione, Cesni, Quadrado, De Ligt, Bonucci, Alessandro, Matuidi, Bentancur, Ramsey, Bernardeschi, Ronaldo, Dybala, a me non resta che salutarvi e fino alla fine forza Juventus.